Ciao a tutti e ciao Damiano, quello che è dietro al telefonino. Oggi voglio proporvi questo basso, un 5 corde dell'Ibanez, l'ultima progettazione dell'Ibanez che riprende un po' la produzione degli Headless, ovvero i bassi senza paletta che erano in produzione negli anni 80-90 dalla Steinberg, dagli Status, tuttora sono in produzione ma non sono così diffusi a prezzi così abbordabili. Si tratta di un 5 corde a multiscale, quindi ha la precisione nell'esecuzione di un tipo di genere come fate. L'elettronica è un Bartolini, classica Bartolini ormai conosciutissima con le sue tre bande di equalizzazione. Le meccaniche sono monorail tipica dell'Ibanez, con la regolazione ovviamente al ponte. L'ingresso Jack è un combo con l'attacco sgancio rapido. E niente, adesso vi faccio sentire un po' come suona, in passivo. Proviamo in passivo, in attivo, con le stesse regolazioni. Anche il Si basso è bello presente. E poi diamone un po' di regolazione con i più bassi. E quindi è già cominciare a seguire un bello rotondo, con i più di medi. Con i più di alti. Possiamo regolare anche in maniera più precisa tutta l'equalizzazione. Dopo in un momento, se uno decide di sleppare, ne ha... Con i più di alti. I suoni sono quelli tradizionali quindi si possono avere i suoni fender di preciso, si possono avere il jazz questo è un basso versatile per chi vuole avvicinarsi a un 5 chord headless col prezzo contenuto che ha, insomma, secondo me è una buona occasione da non lasciarsi sfuggire